Tre anni fa i medici di base nel Cremonese erano 235, oggi sono 206 e calcolando i prepensionamenti e i pensionamenti in vista dei prossimi mesi o settimane il territorio ha una carenza di una sessantina di questi professionisti. Una situazione che riguarda anche altre zone ma che ora nel Cremonese si sta cronicizzando. Qualcosa si sta facendo, 82 medici hanno deciso di innalzare il massimale a 1.800-2.000 pazienti e gli incaricati provvisori sono 57. Nonostante ciò però la sanità territoriale è in affanno. Sulla provincia di Cremona siamo oltre 60 e adesso ci sono anche altri pensionamenti e la situazione sarà così per i prossimi 3 o 4 anni almeno in attesa di poter vedere l'arrivo di nuovi medici di base. Quindi sulla medicina di territorio purtroppo rimaniamo agli annunci, non ci sono risorse, anzi il governo sta disponendo una finanziaria dove taglia risorse e noi anche in consiglio regionale chiederemo alla giunta di intervenire nei confronti del governo per bloccare questa tendenza, investire e sapere esattamente sulle case e sugli ospedali di comunità com'è la situazione provincia per provincia per capire appunto fino a che punto sono arrivate anche perché si parla di risorse del PNRR quindi bisogna stare attenti a non perderle e ci pare che la situazione in regione Lombardia porti con sé proprio il rischio di vedere perse le risorse proprio per i ritardi che anche la stessa regione sta avendo. A questa criticità si aggiunge il taglio previsto nell'ultima legge di bilancio nell'ambito della disabilità. Disabilità famiglie, persone con disabilità, il governo ha presentato oggi la proposta di legge di bilancio che inizia il suo iter parlamentare, prevede 400 milioni di euro di taglio alle politiche per le persone con disabilità. Noi oggi proporremo una mozione urgente per chiedere alla giunta di intervenire nei confronti del governo non solo per bloccare questa scelta che va contro gli interessi, la qualità della vita di queste persone ma di mettere più risorse perché se non si parte dai più deboli io credo che non sia degno di essere chiamato Stato un paese come il nostro.